Grazie per aver accettato il nostro invito. Andrea lo conosciamo perché sportivamente ha sempre frequentato questo studio, questo salotto. Invece il presidente, l'avvocato Alessandro Astorina, abbiamo scoperto stasera che oltre a essere presidente del Consiglio Comunale di Ligodì e Ubea, e principalmente a fare l'avvocato, si diretta a fare l'allenatore della SD Sporting e Ubea. Come va questa cosa, presidente? Come lo devo chiamare presidente, mister, come lo devo chiamare? Tutti i titoli ora si sprecano. Io direi Alessandro, forse sarebbe meglio. Come nel privato. Alessandro e Pino va benissimo. Allora, come mai questa scelta? Il piacere forse di… Io direi che il calcio è una passione antica, non è una cosa che nasce oggi, è una cosa che viene da lontano anche perché io ho giocato un po' a calcio e quindi è tra le mie passioni giovanili o adolescenziali. Quando è stata fondata la squadra Ligodìa, io insieme anche a mio fratello giocavamo nella squadra fino alla promozione in prima categoria, poi per limiti di età e impegni vari abbiamo smesso di giocare. Anche se siete anagraficamente più piccoli di totti, diciamo, giusto? Sì, se lei lo dice così, lo prendo come un complimento. Facciamolo passare. Sì, sì. No, dico, è una cosa che viene da lontano. Quindi è rimasto l'amore per il calcio e comunque il piacere di stare vicino a questo ambiente. Sì, anche perché voglio dire, in un paese come Ligodìa di 3.000 abitanti, avere una società come la nostra, organizzata e che ha comunque la possibilità di disputare un campionato competitivo come la prima categoria, significa anche mettersi a servizio della nostra comunità e dei nostri giovani e questa rimane una delle cose più importanti per noi. Abbiamo riaperto il campo sportivo dopo 20 anni di assoluta chiusura e quindi abbiamo iniziato questa avventura e adesso siamo in prima categoria, dico, dopo sette anni con una squadra, a mio avviso, competitiva. Allora, la SD Sporting Ubea partecipa al campionato di prima categoria. Quindi nel girone F dove stanno il Caltagirone, dove sta il Mirabella, dove sta il Ramacca Castel di Iutica, dove sta il Militello, dove sta Palagonia, ecco, diciamo dove sta tutto il Calatino. Diciamola così. Per cui, ecco, anche questa settimana abbiamo voluto dare spazio per conoscere queste realtà che fanno parte del stesso territorio del Calatino. Credo che sia interessante, chissà, anche per sviluppi futuri, che io vedo che lo sviluppo futuro, dato l'andazzo dei tempi, nulla toglie che si possa concretizzare e realizzare un sogno di qualcosa vecchio di oltre 10-15 anni, realizzare la squadra del Calatino per ambire a risultati notevolmente più ambiziosi. E' vero Andrea, ne abbiamo parlato tante volte di queste cose. Famoso comprensorio. Famoso comprensorio, ecco, del Calatino. E quindi, va bene, conosciamoli. Poi è bello anche verificare, certificare, conoscere che molte squadre di quelle appunto che fanno parte di queste realtà cittadine, che comprengono il Calatino, molti vengono del Caltagirone, vengono dal Vivaio di Usasport, della Kennedy. Questo crea una familiarità, seppur nella competitività appunto del campionato che quest'anno, 2014-2015, vi vede comunque contrapposti. Andrea, come ti sei catapultato praticamente a Ligodier? E' stato il mister che... Sì. Come nasce sta cosa? Diciamo che è stato lui che mi ha accontentato insieme al nostro vicepresidente Gabriele Astorino. E niente, quindi ho accettato questo invito, quest'anno ho dato anche gli impegni che in parte non avevo preso con la mia ex squadra Usasport. Che non c'era. Che non è stata iscritta al campionato. Ancora effettivamente non era stata nemmeno iscritta al campionato. Allora, vediamo un pochettino questo campionato. Tre giornate, mi pare l'altro ieri avete giocato con il Sant'Agata, il Sant'Agata Villaggio, Villaggio d'Agata. Sì, diciamo che è una squadra... Perché Sant'Agata non va bene lo stesso, Villaggio e Sant'Agata. E avete vinto per 2 a 0. Sì. Ma se ci dobbiamo fermare alla partita di domenica... No, questo dico dopo tre giornate. Ancora è presto per fare una valutazione, diciamo. Certamente, certamente. Anche se siete più o meno in testa alla classifica. Ma voglio dire, è un'affermazione molto... Che lascia il tempo che trova. No, fra qualche settimana vedremo, diciamo. Ma... Fra un paio di mesi sarà più delineato tutto, diciamo. Come accade in tutti i campionati, credo che i valori veri e sostanziali ancora debbano venire fuori. Su questo non ci sono dubbi. Noi pensiamo di avere lavorato bene in estate nella formazione della squadra. Anche, devo dire, approfittando del fatto che Usa Sport non ha iscritto al campionato la propria squadra. Di promozione. Di promozione ringrazio, anzi, Aldo Sinatra, visto che è un'opportunità per la grande disponibilità, la franchezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti. Certamente noi pensiamo di avere potenziato comunque la squadra che l'anno scorso ha fatto la semifinale dei play-off, perché è arrivata a quarta. Quest'anno abbiamo preso Andrea, abbiamo preso anche Daniele Sanmartino e altri ragazzi di Caltagirone come Gallo e Barresi, che sono due juniores e Vitale, che viene da Ramacca, sempre da parte di Usa Sport. Abbiamo poi confermato la rosa dell'anno scorso di una squadra che comunque è arrivata a quarta, quindi pensiamo di aver costruito un gruppo competitivo, poi sarà il campo a dire quali saranno i valori e quello che riusciremo ad esprimere. Però, voglio dire, è una realtà sicuramente importante, è una squadra che credo sia fatta anche per divertirsi, per ottenere qualche risultato sul campo, indubbiamente. L'Icodia come sta vivendo questo momento? Perché è un momento dal punto di vista calcistico, notevolmente gasante, diciamo, no? Diciamo questo, l'Icodia vive il calcio con un disincanto, anche perché, come tutti noi sappiamo, non è un momento facilissimo. Diciamo che la gente, se si avvicina al campo e allo sport, lo fa veramente, credo, per distrarsi da una quotidianità piuttosto affannata e affannosa, nel senso che le difficoltà non mancano. Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare al massimo quello che è il nostro, tra virgolette, materiale umano e dare l'opportunità ai nostri giovani di esprimersi nell'ambito di una società sportiva che rimane al loro servizio. Abbiamo anche una squadra allievi che disputerà il campionato provinciale, quindi cerchiamo sostanzialmente di essere aperti al meglio a quelle che sono le esigenze della cittadinanza. È bello comunque il fatto che ci sia una squadra dove i ragazzi possono esprimersi e che ha dato l'opportunità a un'intera generazione di avere a disposizione delle opportunità che non sono state concesse ad altre generazioni. Credo che di questo ci sia grande consapevolezza e credo che dalla stragrande maggioranza dei cittadini siamo considerati un patrimonio per il Lico di Obea, proprio perché con risorse economiche molto risicate riusciamo a fare cose significative per una comunità comunque piccola come l'Ico di Obea. I licodiani vengono allo stadio? Sì, io devo dire di sì, anche se abbiamo avuto qualche problema in questo inizio di campionato perché stiamo ristrutturando l'impianto e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà. Noi abbiamo sempre avuto un buon seguito anche perché abbiamo cercato sempre di valorizzare ripeto quello che è il prodotto locale perché poi alla fine da quando c'è l'API TV, da quando c'è Sky è chiaro che venire in un campo di prima categoria si viene per lo più perché tu hai l'amico, perché hai il familiare. Oggi puoi rimanere al caldo e vedere una partita di Serie A che francamente è uno spettacolo diverso, andare a prendere freddo e caldo in un campo. Le emozioni sono diverse però. Sono diverse perché sinceramente io ritengo che le emozioni vere da tifoso tu le vivi con qualcosa che senti tuo e quindi una squadra che rappresenta il tuo paese, la tua comunità dove vedi giocare i tuoi amici, i tuoi parenti è sempre qualcosa che vivi emotivamente in maniera più forte e quindi c'è un senso di appartenenza sicuramente diverso. Questo credo che crei una certa affezione oltre al fatto che i risultati sono venuti, siamo partiti senza alcuna aspettativa, in due anni abbiamo vinto il campionato di terza, nei due anni successivi poi quello di seconda, l'anno scorso al secondo anno di prima categoria siamo arrivati ai play-off, quest'anno pensiamo di aver fatto una buona squadra quindi c'è solo da divertirsi, credo. Andrea domani mercoledì domani 15 ottobre alle 15.30 giocate a Licodia per la Coppa Italia diciamo no? Coppa Sicilia. Coppa Sicilia. Ecco chi incontrate? Raccontaci un po' del momento agonistico diciamo. Niente, noi domani dovremmo incontrare il nostro, dovremmo fare innanzitutto il nostro esordio in compassione. Contro chi? Chi ha il chiospetto? Domani se non sbaglio all'agonia, esatto, che abbiamo anche già incontrato in amichevole ma ovviamente non sono quelli... Sarà una delle prossime in campionato di... Sì se non sbaglio è la prossima anche... E infatti, avevo visto più o meno il calendario fuori casa. Quindi sarà un modo come conoscervi vicendevolmente? Sì anche se già insomma ci conosciamo in parte perché ripeto ci siamo già incontrati nel pre-campionato quindi in un amichevole ma non fanno testo ovviamente quindi perché sappiamo che... Domani il primo momento agonistico con il paragonia? Sì domani il primo momento agonistico e sicuramente non è non è da sottovalutare perché sappiamo che sette, otto gare sono quelle che poi se si riesce sono quelle che porteranno alla categoria successiva e quindi comunque ci crediamo parecchio. Domenica prossima invece giocate per il campionato dove andate? Domenica prossima siamo in casa con... Mi dimenticavo il Niscemi appunto. Abbiamo il Niscemi in casa. Mi dicono squadra... Mi dicono squadretta... Squadra da non sottovalutare perché sappiamo che... Almeno ho sentito un amico che ha giocato domenica scorsa contro di loro. Una squadra quadrata messi bene in campo quindi... Come tutte le domeniche affronteremo... Ci sono calatini che tu conosci al Niscemi? No, che io sappia no. Però li conosco anche perché... Vabbè li conosce tutti... quindi li conosco più o meno. Il Niscemi quindi sarà ospite a Ligodìa domenica prossima? Sì. E' questo. Quindi sono due impegni certamente un po' pesantucce diciamo. Voi non avete bisogno di riposo, riuscite a fare diciamo... Sicuramente... Avete la panchina molto lungata per cui... Fortunatamente... L'allenatore non ha problemi a mettere in campo formazione. Fortunatamente abbiamo una rosa abbastanza ampia quindi... E questo l'avevo capito io. Infatti è tranquillo e sereno. Siamo tutti a disposizione soprattutto i ragazzi che magari militano un po' meno nel campionato. Mister, quanto è importante il portiere Andrea? Diciamo che il portiere di per sé è un ruolo di quelli fondamentali. Poi nel... Andrea parla bene. Quanto è importante in questo contesto? Ma io non sono abituato a fare mai grandissimi complimenti ai ragazzi però obiettivamente Andrea porto un contributo importante. Un valore giusto. E' un valore giusto. Tu fai fin da io. Anche perché lui da portiere fa la cosa per me più importante per un portiere che è quella di dare sicurezza a un intero reparto dando quel senso di solidità e quell'impressione che poi è fondamentale soprattutto per i compagni di squadra. Sentirsi coperti alle spalle con un portiere di valore come Andrea. In questo credo che non dica nulla di eccessivo né di nuovo. E' sicuramente qualcosa di importante. In più, e questo lo dico perché è una cosa che mi sento di dire, è un ragazzo che a livello umano, a livello personale, nell'ambito dello spogliatoio, un qualcosa in più. C'è un ragazzo che sicuramente è un punto di riferimento che sa stare dentro il gruppo, che sa capire anche alcuni momenti di difficoltà, che è quello su cui si può anche contare in momenti, diciamo così, delicati. Quando si gestisce un gruppo di 20-25 persone avere queste persone capaci di dare serenità diventa una cosa importante. Questo lo aggiungo io, uno dei migliori portieri di categoria che c'è in giro. Ma allora, se mi devo sbilanciare per me Andrea… L'ho fatto io intanto, Presidente. Io devo dire che Andrea per me era un obiettivo di vecchia data, perché secondo me lui aveva delle qualità che non appartengono a questa categoria, perché è un ragazzo da un punto di vista tecnico e fisico che riesce a esprimere delle cose che non sono usuali. Quindi, diciamo che rispetto alla categoria, secondo me è chiaramente un punto in più, un qualcosa di aggiunto. D'altronde l'anno scorso, anche in USA Sport, quando ha giocato, ha dimostrato di essere un portiere di sicuro valore e di grande affidabilità. Quindi scendendo di categoria questo valore non può che crescere. Fermo restando che poi queste cose le dico, perché una delle più grandi doti di Andrea è sicuramente l'umiltà. Va bene così, sottoscrivo questo. Va bene, dai, non c'è da arrossire, non è niente. Sono cose così, chi ti conosce sa che sei così. Averlo avuto sottoscritto anche dal mister Presidente Astorina, crede sia. Non è nel chiuso della nostra città. Visto che siamo in una trasmissione di TV Rexeno, che è comunque una TV che ha sede a Caltagirone, devo dire che Andrea è una di quelle persone che fa onore al nome di Caltagirone. Assolutissimo, altrimenti non mi sarei sbilanciato oltre misure. D'altra parte qui girano in questo programma persone che io ho visto crescere dal punto di vista sportivo. Daniele Trombino la scorsa settimana, sono persone che poi dimostrano sul campo e anche fuori dal campo la valenza, perché non è solo sul campo lo sportivo che deve dimostrare le proprie capacità o qualità, ma deve avere la capacità anche di metterli in atto. È un modo di essere, non un modo di vivere. È un modo di essere, che è diverso per certi versi. Per vivere uno può dire io mangio col coltello e forchetta. Quello di essere è una cosa diversa. Uno che sa mangiare, sa stare a tavola anche senza il coltello o la forchetta. mi piace questa metafora. Io dico che, se mi permette, lo sport è una grande metafora della vita e quindi chi sa stare e chi sa fare sport in una certa maniera normalmente è una persona che ha qualità e valori umani. Ci vediamo questo spazio. Vi abbiamo conosciuto, seppur in modo che mi sarei immaginato, avrei aspettato e speriamo che possa esserci la prossima volta il Presidente Ivalo Greco, il Presidente del suo talizio dell'ASD Sporting e Ubea. Stasera non è potuto essere qui per impegni precedentemente assunti, però uno dei prossimi martedì vorremmo averlo qui presente e chissà magari il Vice Presidente Gabriele Astorina. L'Igodì è bello, il Paese è bello perché è piccolo, ci si conosce tutti e poi c'è il fratello, il papà, il nipote e diventa una specie di catena di Sant'Antonio. Il Sitaco Giovanni Verga sta bene, non ha nessun ruolo in questa squadra, in questo sodalizio? No, all'interno del sodalizio chiaramente non ha nessun ruolo. So che è il primo tifoso però di questa squadra. Ma come primo cittadino non puoi che essere il primo tifoso. Mi piace questa risposta, va bene così. Grazie ad Alessandro Astorina, Mr. Presidente del Consiglio Comunale di Lico di Ubea, di essere stato qui con noi, grazie ad Andrea Parlabene, portiere della ASD Sporting e Ubea, in bocca al lupo per domani, per la Coppa Sicula e per domenica prossima per l'incontro con Niscemi, che sarà tutto da godere, tutto da vedere credo. Sarà il big match della domenica per la prima categoria del Girone F, credo che lo sia. Un altro derby del Calabino. Tutti i derby sono poi, tutto su quanto. Quando ci sarà Caltegirone Lico di Ubea sarà un altro derby. 2 novembre. Preparatevi perché sarà fantastico. Dentro casa, qua Caltegirone? No, giochiamo in casa. Ah, ti piace questa? Sarà più bello, verrò a vedermela questa, questa dovrò venire. Aspetterò i miei amici, mi abbraccio per te. Va benissimo, in bocca al lupo, grazie, alla prossima, auguri ancora. Chiudiamo la trasmissione, vi ringrazio la cortesa attenzione, appuntamento a martedì prossimo e spero che qui la conduzione torni al legittimo timoniere Nancy Seinben. Buon proseguimento e buona serata.